Ciuma, io ho molta paura perché ho aperto Spore e mi ha detto Ehi, guarda che l'ultimo salvataggio è molto danneggiato, cerchiamo di ricaricare dal salvataggio precedente E quindi non so cosa ci troveremo Ma... ehi! Ehi, la ciurma, io sono Malzatessa e ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di Spore Galactic Adventures Come potete vedere effettivamente... Sembra che no, effettivamente ha bypassato completamente tutto quello che abbiamo fatto lo scorso giro C'è proprio un'allegria Cosa avevamo? Sbloccato la moderazione planetaria Infatti, infatti Ma porca d'una miseria! Cioè... Perché questo proprio annoi? Perché proprio ora? Due video buttati proprio a mare Porca d'una paletta Proprio di quelle palette pezzenti Proprio di quelle... palette lurie Proprio lezzo, sgocciola E rilanciamoci Ciao, è un piacere vedervi per l'anissima volta Voglio andare in missione Ok Allora vedere, ci dobbiamo andare a terraformare quel pinko-panco Speriamo che non ci diano dei... Dei plot game stars Allora, aspetta un attimo Allora, terraforma... Fino a raggiungere un punto Gt di 3 Oh, bella storia! Ci metteremo 40 anni Ripete il sistema... Nel sistema Celine Allora... Allora... Eccolo qua Eccolo poi Don't you have ? Olysius, Selvia, Lucucucucu Celine, eccolo qua, è lui mi sembra Si, celine E dobbiamo andare su Lucos, nel pianeta Trino Qua, Optimiximo Ci ormai mi scoccia parecchio, qui dobbiamo rifare tutta sta roba Tutte ste missioni, eravamo così vicini ai Grox e invece qua dobbiamo... E vabbè, che ci volete fare? Allora, noi dobbiamo aumentare le nuvole È quello che ci manca, effettivamente Allora, accumuliamo le nuvole Spargiamo nuvole come la sola ci fosse domani Vadi, vadi, vadi Allora vai, pianta piccola, ci sono i mozzi qua Lol No, questa è sempre piccola, una media Eh, aspetta che lei riprende È una grande Oh, è già entrato nell'altro Oddio, doveva fare il fretta, allora No, l'onnivoro non possiamo spararlo Vedi, erbivoro, ma c'è già questo No, se vedi no, perché ce l'ha preso Allora, erbivoro Ok, è un nivoro Poi vadi, pianta piccola Pianta grande E pianta media Ottimo Noi abbiamo mai dovuto mettere gli animali degli altri Buonissimo così Eccoci qui Torniamo in perome Ciao Eccoci qui con la nostra Mixioncina completata Tra l'altro, quante dobbiamo fare? Ancora tipo una di Cina Vogliono qualcosa? Loro no Perché lo scorso video ho anche venduto parecchie spezie Porca pupazza Gli scorsi due video sono andati a quel paese Perché io ho salvato solo la fine dei due, ovviamente Quante ce ne mancano? Eh, ce ne mancano otto Porca paletta Andiamo da questi altri meno Speriamo ci diamo qualcosa di più veloce da fare Perché vorrei anche concludere sto missionario, eh Missioni Capito, ci si vede, ok Dobbiamo andare a seccare qualche animaluncolo che rompe l'anima Probabilmente Raccogli i campioni di piante animali e porti... ah no Cosa? Ah, ok L'ecosistema è sbilanciato, dobbiamo bilanciarlo Ok, cosa è che ci manca? Ci mancano delle piante Tipo questa E poi cos'è che è la beggiavola questa? Ma no, serve una piccola adesso Tipo questa Poi vorrà... Erbivoro Un altro erbivoro qua Bada E un annivoro E dovrebbe essere a posto Ok Abbiamo preso anche Zoologo 4 L'ingranditore si che non serva un Kaiser Tanto già che ci siamo comunque salviamo Visto che abbiamo fatto praticamente due missioni No, salviamo alla fine della seconda missione Perché se qua ci si incasina di nuovo tutto Cioè, porca paletta Quante palette porto, ecco Oh! Cosa succede? Degli UFO stili Sta spazzando via la nostra civiltà, niente poco di meno Saranno i Grox questi, non dei pirati... Soliti probabilmente Sì Va che sono loro Sì Cioè, mi hanno sfasciato tutte le navi quelle Sì Qua ce ne ha altre Via, via, via Moriteci Ok Ok Perché non posso spazzagliarlo? Si vuol dire che non ho... Ah, non ho più energia Porca miseria Ho finito l'energia Ritirata strategica, ragazzi Scusate, ma non ho più energia Oh, senti Posso... Eh, non posso ricaricarmi qua Qua c'era... No, non c'è un cane di nessuno qua Devo andare... Qui, a casa A ripararmi di energia Ma mi ha distrutto tutta la flotta, tra l'altro Solo ti ripara e ricarica Via, 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 via Veloci Prima che i Grox ci piglino tutto qua Vai su Mirillo Vai su Mirillo Porca paletta Ah, no Ok, sei salvi Ma Cribbio Ma Cribbio Era andato a ricaricarmi Porca di una paletta Ma vaffanbrodo Cioè, ma dai Ne recupero i soldi almeno Cosa è quello? Ah, non aveva i miei alleati morti, forse Devo vedere qua se hanno distrutto qualcosa Questa tra l'altro è una delle nostre colonie di produzione massima No, qua è tutto a posto Ok Vediamo quest'altra qua Ah, mancano delle torrette qua Ok All'altra non ho controllato le torrette, però andiamo a vedere se le torrette ci sono No, ci sono, perché è il massimo di difesa, dovrebbero esserci tutte No, ne mancano Ne mancava una Fortuna che siamo tornati qua Perchè almeno se riattaccano siamo ben tutelati, ecco Magari dovremmo prendere anche le mega torrettone, quelle di super difesa Ok, una Ok, una Perfetto 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 Ci manca l'impero minor E il tempo che vuole E il tempo che vuole E Diplomazia Ok Grazie mille Allora Questa Questa è Questa è L'impero mozzo nostro Ma non è questo che cercavano loro Ma non è questo che cercavano loro Ma non è questo che cercavano loro Questa che è? Bocca tentacolare Tra l'altro questo è un sistema che abbiamo comprato per Conti Zero che fa schifo proprio Atruzzi L'abbiamo comprato probabilmente dai Tempo che vola Ah dice che gli è stato rubato Ma in pratica c'era Era sul loro pianeta Gli abbiamo semplicemente comprato il pianeta e non l'hanno portato via Che idioti Perfetto Allora ce ne dovrebbero mancare sette Se ci muoviamo riusciamo magari anche a concludere in questi due episodi Se ne facciamo cinque per episodio Allora Impero Minor Dacci una missione Ciao Missione Ok Dice Vai a recuperarci questa pianta qua Che è Nel sistema illo Ok Murea Ottimo E' trovato un pianeta unico LOL La medaglia sognatore 2 Ma sarà questa la pianta probabilmente Scannerizziamo No Uzi No Wings vuole lui Trofete un Hugs Dov'è scusa? No Ah è questo se lo ha No No Wings è questo qua Ok Ok quella non mi serviva LOL guarda quel precipito Torna Torna Abbiamo solo due parsec di tempo No due secton Come si chiamano quelli? I parsec sono le unità spaziale Effettivamente Quelli non mi ricordo come si chiamano Due septim No quelli sono Yeah 60 milioni per credit Ottimo Arrivederci Ah salviamo un attimo Già che ci siamo Ok Così non ci succede magari il casino della scorsa volta Porca la pupazza Ok Chiudiamo un attimo Voglio solo vedere la mia collezione Qua quante ce ne mancano 5 dai Facciamone ancora una così il prossimo episodio 4 e chiudiamo tutto E ci lanciamo sui grox Promesso Perché sennò qua non Non concludiamo più la serie E non andiamo più avanti Capito ci si vede Adesso spero che non sia vaiplot game stase Se no Ehm Eta marcia No maria Scusate Ah Clark Stanley Ah ok L'abbiamo già giocata anche questa Vabbè dai Sempre meglio questa qua che non Le solite Solitate Fatto Ok Grazie E' stata una cosa molto stupida Però abbiamo fatto un'altra missione LOL Yeah è stato un piacere addio E Anche noi ci salutiamo Io vi invito a lasciare un mi piace Iscrivervi al canale se per caso non l'este già fatto Vi auguro una buona giornata Ciao a tutti Ciao a tutti 웠 No Ma Ma hai messi la Una La E l Ano di di T C Grazie per la visione!